Ciao a tutti, io sono una ragazza truzza, cioè sono una truzza perché, cioè, perché a noi truzzi ci piace vestirci filmati e perché, e perché cioè, io ascolto musica che fa. Grazie a tutti. Io sono una truzza, non prendermi per pazza, la mia è una ragazza che ascolta musica che fa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.